La normativa vieta assolutamente questo tipo di attività. I circhi vengono considerati dalla normativa vigente degli insediamenti produttivi come degli allevamenti veri e propri di animali e devono essere isolati nelle campagne o tenuti a debita distanza dalle abitazioni. Qui abbiamo praticamente sia il circo, tentoni e mezzi che sono a un metro o due metri dalle case. Io ho già chiesto spiegazione al comandante della Polizia Municipale di Alcamo, il quale mi ha riferito che la commissione dei pubblici spettacoli non sia addirittura mai riunita. Questo è un fatto gravissimo perché la normativa vigente prevede che prima dell'arrivo di un circo si deve riunire appunto questa commissione, che è formata da sindaco, comandante vigili urbani, comandante dei vigili del fuoco, servizi veterinari, quindi ognuno per i propri compiti deve rilasciare il parere positivo all'attendamento.